Questo gioco è sconosciuto Ah bello c'è pure lo shop Immagino che sia il classico Puoi comprare qualsiasi cosa Tranne la tua libertà Questo si che è un mitra con le palle Ah no dai Ha ha Ma boss level La musica è una figata pazzesca Oh boss alert Boss alert Cos'è Albert? Vediamo, 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 vediamo Eccolo! Eh? Tutto qua! Poi boh, qua ho comprato un po' di roba Ho aggiornato qualche statistica Ragazzi Suggate le patte Ah sì, ecco qui Boss Level Mi ti sembra tutto insignificante dal punto di vista di un lanciarazzo Come farò? Troppi nemici! Ah, gioco finito Ok, dopo aver finito il gioco c'è una survival mode Ah, comunque anche se la mia opinione non la chiede nessuno credo che sia molto bello come passa il tempo questo gioco Da Heavy Powerage è tutto Alla prossima ragazzi Ciao!